Nella lezione di oggi parleremo dell'Unione Europea relativamente alla tutela dell'individuo all'interno della stessa Unione. Partendo innanzitutto col dire che la tutela dell'individuo all'interno dell'Unione Europea veniva individuata in una doppia fonte, sia interna all'interno delle costituzioni dei vari stati membri facenti parte dell'Unione Europea che internazionale ce ne ha trattati in materia dei diritti dell'uomo. Sotto questo punto di vista è intervenuto e quindi si è aumentato questo livello di protezione per l'individuo e dei diritti umani che ha subito evoluzione proprio in positivo, crescendosi e aumentandosi, soprattutto con l'entrata in vigore di recente del Trattato di Lisbona nel 2008. Infatti nel Trattato di Lisbona, in particolare nell'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea, si vengono consacrati come valori fondanti dell'Unione Europea il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello statuto di diritto, del rispetto dei diritti umani, compresi quelli delle persone appartenenti alle minoranze. E il rispetto di tali principi, cioè quindi dei principi stabiliti all'interno dell'articolo 2 sul Trattato, costituiscono proprio i requisiti fondamentali per aderire all'interno dell'Unione Europea. Proseguendo dobbiamo dire che la protezione dei diritti dell'uomo ispira anche la politica internazionale dell'Unione Europea, sia per quanto riguarda la politica estra, ma anche per quanto riguarda la cooperazione e lo sviluppo all'interno dell'assessore Unione Europea. La competenza della Corte di Giustizia si è stesa alla tutela dei diritti dell'uomo, sia in relazione all'attività delle istituzioni, quindi delle istituzioni dell'Unione Europea, ma anche e soprattutto in relazione alle attività di quelli che sono gli organi dell'Unione Europea e non invece a quelle degli Stati membri. E relativamente a questo dobbiamo dire che al contrario di quanto detto, dobbiamo dire che appunto non potrà essere presentato ricorso contro un provvedimento di diritto interno dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, perché? Perché questo viola i diritti dell'uomo, viola i diritti dell'uomo, né si potrà eventualmente sindacare la compatibilità con la Convenzione di un'eventuale disciplina nazionale e chiedendoci perché questo non si può fare, perché semplicemente questo esola dall'ambito del diritto dell'Unione Europea, appartenendo agli Stati membri. Facendo quindi ora un breve recap di quanto detto, dobbiamo parlare della tutela data dall'Unione Europea, interna ed esterna, del livello di protezione che ha aumentato successivamente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbono del 2008, soprattutto con l'articolo 2. Per poi parlare della protezione che viene data ai diritti dell'uomo all'interno dell'Unione Europea e delle competenze della Corte di Giustizia che però non si possono mai estendere rispetto ai diritti e quindi ai provvedimenti dell'interno di uno Stato membro, perché esula dall'ambito dell'Unione Europea.